Ancora disagi per la nuova casa comunale di Fondi. La struttura inaugurata appena due anni fa, ieri mattina, ha avuto un piccolo problema nel piano seminterrato, non lontano da dove si trovano gli archivi comunali. Nello specifico, a caso di un danneggiamento all'impianto idraulico, i primi dipendenti giunti sul posto di lavoro nella zona hanno notato pochi centimetri d'acqua sul pavimento. Forse è esagerato parlare di un allagamento, ma di certo è stato necessario l'intervento congiunto degli operai del comune per rimuovere l'acqua e di quelli della ditta che ha costruito la nuova struttura pubblica per mettere mani all'impianto. Grazie al duplice intervento il problema è stato risolto entro la mattinata. Ironia della sorte, il piccolo allagamento c'è stato in una delle giornate più limpide e assolate delle ultime due settimane, con il dubbio di chissà cosa sarebbe potuto accadere se per caso fosse stata una giornata piovosa. Di certo il guasto non può provocare allarmismo, anche se c'è da riflettere su diversi problemi che hanno colpito e colpiscono il palazzo comunale e piazza municipio da due anni a questa parte, disagi prettamente legati al parcheggio interrato San Francesco. Qui sotto i dipendenti comunali, i semplici cittadini che lasciano l'automobile, sanno bene che quando ci sono diversi temporali o giornate particolarmente pievose, l'acqua arriva a fiumi, frutto probabilmente di difficoltà di scolo. Anche le infiltrazioni nel parcheggio sono ben visibili agli occhi di chiunque e la cosa fa ancora più riflettere se si considera che il tutto è stato inaugurato solo nel 2009. Rimanendo ai problemi legati all'acqua c'è anche la fontana di piazza municipio che non si sa per quale motivo funziona di intermittenza, ma ci sono anche altri disagi legati ai problemi tecnici come quelli sempre inerenti al parcheggio San Francesco dove da diversi mesi si lascia l'auto liberamente senza pagare la tariffa oraria. Tutto questo perché non è stato ancora riparato il danno fatto da alcuni vandoli alla cassa automatica. Infine i due ascensori che dal parcheggio dovrebbero portare in piazza municipio e che in due anni non sono mai entrati in funzione con un gravissimo disagio per i portatori di handicap che non possono usufruire dei parcheggio a loro riservati al piano interrato perché non sanno come poter tornare in modo autonomo in superficie.